Per cercare di mettere un po' in fila tutti questi pezzi così variegati tra la realtà che ci impone scelte anche molto dure perché tornare a un anno fa, tornare alle zone rosse, insomma per gli italiani è davvero durissima a questo punto, a mio parere dall'altra parte i vaccini che non arrivano, non arrivano alle dimensioni in che vorremmo leggo di programmi meravigliosi, 19 milioni di vaccini al mese, non ho ben capito con quali dosi però mi fido, mi voglio fidare e in tutto questo la politica come vediamo ha un po' un dibattito invece autoreferenziale oserei dire Allora, che la politica si prenda il suo spazio non solo non mi scandalizza ma mi rassicura da vecchio osservatore della politica i partiti che erano maggioranza di governo prima nel Conte 2 hanno preso una botta clamorosa e adesso si stanno riassestando, riorganizzando alla ricerca di una leadership da una parte c'è un, chiamiamolo così, capo assoluto che può decidere almeno per il momento come mettere un tappo alla crisi, non so quanto ci riuscirà perché è vero che il 60 è più di 40 ma quel 40 è molto agitato lo stesso a crisi c'è dall'altra parte, lì a me pare che ci sia necessità straordinaria di trovare un leader e che Zingaretti, a mio parere personale, tale non si sia dimostrato tra l'altro lì incombe, anche se ne continuano tutti a parlare al mare, ma incombe sul serio l'ombra di Renzi e là vediamo come va a finire nel PD ma a me appassiona, nel senso, se anche non mi appassiona, ritengo di dovermi interessare perché è guai a pensare che i partiti fossero stati messi da parte quello che viene fuori, parlando con i sindaci, poi arrivo rapidissimamente alla storia terribile del Covid quello che viene fuori, tu dicevi, ma i sindaci, Dardella diceva, i sindaci hanno il polso del territorio i sindaci sanno, invece c'è il distacco dalla politica romana ma i sindaci, come i presidenti, come le regioni, hanno un metodo elettorale per cui sono stati eletti sul serio e rispondono sul serio la verità è che è arrivato il momento di dire che è questo il punto il punto è il sistema paese e il sistema elettorale altrimenti ci sarà sempre di più uno scollamento su come funzionano le cose romane e nazionali e come funzionano quelle regionali e locali e quindi io sono convinta che vadano ascoltati quelli che stanno sul posto e che il sistema elettorale vada modificato se non altro a partire dall'elezione diretta del Presidente della Repubblica detto questo, il Covid allora, noi abbiamo di nuovo la stessa storia guarda che doloroso, è desolante, è sempre il giorno della marmotta perché in realtà noi parliamo soltanto concretamente di futuro lockdown un'altra volta è verso questo che ci stiamo dolorosamente e rapidamente incamminando e perché? Perché tutti gli altri presidi che vanno dal tirar fuori veramente queste dosi di vaccino anche solo per una prima e unica dose al potenziare l'assistenza sul territorio non intasare agli ospedali a favorire delle terapie alternative a, e chiudo, farla finita con i pregiudizi su alcuni vaccini tutto questo non viene messo in campo e allora tra poco anche la magnifica zona bianca dalla quale Federico Geremica ci parla oggi rischia di tornare perché finché è isolata quanta gente c'è in Sardegna finché non ci arriva nessuno ma se dovesse arrivare il turismo cioè se dovesse ricominciare quella minima attività economica senza la quale siamo morti lo stesso, vedi, i ristoranti la sera di nuovo torni gialla, poi torni arancione poi arancione scura e poi rossa purtroppo la storia ci ha insegnato che è così la Sardegna passa da essere no covid ad essere un popolaio gigantesco proprio così esatto, Mirta Draghi ci deve dire e deve parlare deve parlare Draghi perché sennò da Super Mario a Marcià Scansa non ci si mette niente in Italia mi piace pure il gesto, parlare con la boccuccia va bene ho capito ci deve dire cosa stanno mettendo in campo allora a proposito di un anno fa